Benvenuti nel server della Gleva, io sono Delmo e siamo live in questo momento con la chat che scrive un sacco di cazzate, come sempre. Siamo qui riuniti per fare appunto insieme un'analisi, non voglio che sia una guida perché poi se dico guida allora devo aver ragione io, ma Delmo avevi detto di fare questo, poi ho fatto 07, non è una guida. Insieme analizzeremo com'è, com'è composto, di cosa gode il limited di Outlaws of Thunder. Junction perché a breve c'è il pre-release e poi inizierà l'arena, ci saranno i draft e tutto il resto, quindi dovete arrivare pronti ai tavolini, perché se no prendete così proprio tutto quello che vi arriva in faccia lo prendete. Quindi andiamo a vedere cosa è Outlaws of Thunder Junction, cosa c'ha di diverso sto limited rispetto a quell'altro, iniziamo con le meccaniche. Allora, prima meccanica, Outlaws, i fuori legge, questa è una carta che si organizza con gli Outlaws, le Outlaws come funziona? È come era il party, ok? Il party praticamente dovevi avere il rogue, il mago, il cazzo e il culo, invece qui gli Outlaws sono un determinato tipo di creatura, appunto. Ma non ci sono per ora, mi sembra, carte che vogliono che tu ce l'abbia tutti. Semplicemente gli Outlaws sono assassini, mercenari, pirati, rogue e warlock. Quindi ci sono un sacco di carte che sinergizzano con questi tipi di creatura, nei colori Rakdos, eccetera. Principalmente Rakdos, appunto. Le carte che sinergizzano con questi tipi di creatura, quindi che hanno le sinergie Outlaws, sono forti, ve lo dico, vo dico. Altra meccanica, il crimine! Le meccaniche del crimine, la rispiego per chi non l'avesse ancora capita, commetti un crimine ogni volta che targetti qualcosa dell'avversario o l'avversario. Il target può essere su una carta che ha in campo, o su una carta che ha nel cimitero. Oppure direttamente l'avversario, tipo, cioè, Totsis, che target opponent, cioè, target player, rivela la mano, target player, hai targetato l'avversario, è crimine. Quindi il mazzo Oma Lament si basa sul targettare tanto l'oppo. Le carte spray, le carte spray sono carte, si può considerare modale, ma non sono proprio modali, sono, hanno un costo di base, ok? Tipo 1, questa costa di base 1, più ci devi aggiungere il costo di ognuna delle abilità che vuoi aggiungere alla carta. Tipo, con la base 1, più 1, tutte le rature perdono l'abilità. Più 1, scegli le rature del controllo e diventano indistruttibili. Più 5, distruggi tutte le rature. Puoi fare tutte e 3, non puoi fare più volte una, ma puoi fare tutte e 3, puoi farne 2, puoi farne una sola. Quindi spray è, ovviamente sono carte molto versatili, ok? Tipo, c'è Unfortunate Accident, che non mi ricordo, mi sembra se non sbaglio, è non comune, vero? Sì, perché comune sarebbe troppo forte. Dov'è? È una delle carte più forti. Ecco, Unfortunate Accident è forse la spray più forte Illimited, che è 4 mana instant, distruggi nella creatura, aggiungi 1, ma buttiamoci anche un 1-1 mercenario. Ma sì, ma perché no? Vedremo dopo perché mi sono fermato su questa carta, e soprattutto perché mi è venuto a mente. Comunque le spray sono molto versatili. Serol, le cavalcature. Le cavalcature sono altro che una versione fatta meglio, secondo me, di crew. Cioè, i veicoli non fanno niente, ma comunque non sono creature. Se i crew diventano creature, le cavalcature sono già creature, che già possono attaccare, che già fanno tutto. Semplicemente te sellandole, praticamente, le potenzi. Gli effetti saddle sono effetti aggiuntivi alla carta che già è creatura. Sono molto carine, effettivamente. Specialmente le comuni sono abbastanza buone tutte. Plot, invece, è una delle meccaniche più interessanti perché si può usare in vari modi. Plot, praticamente, te paghi il costo di plot, metti la carta in esilio, è come se tu l'avessi già pagata. Dal turno dopo in poi, tu puoi giocare quella carta senza pagarne il costo di mana. Perché l'hai già pagata, l'hai plottata. A cosa serve? Serve a fare doppia spell, iniziat, vedremo dopo. Serve a fare doppia spell, serve a fare combo particolari, tipo carte che dicono, quando giochi una carta con 4 più di forza, pesca una carta, la plotti, così sei sicuro che quando giochi quella lì, giochi subito la carta che costa 4 più, non rischi removal, non rischi niente. Quindi, plot, unlimited, è una tempo loss per avere più valore dopo. È fattibile, cioè ti passano sopra la gente se plotti, va capito. Va capito quanto è veloce il set. Se il set è tanto veloce, la gente ti fa un, due, tre, ti mena, plottare è pericoloso. Se no, vedremo se vale la pena. Andiamo a guardare i colori singoli. Il bianco, il bianco mi piace, il bianco mi piace assai, il fatto è che ora dovrò parlare dei colori migliori e peggiori, ma in realtà sono tutti buoni. Cioè, due colori sono oggettivamente meglio degli altri, ma gli altri tre non sono brutti o l'ultimo ingiocabile, come era il nero ultimamente, ma tipo, sono tutti buoni e tutti bilanciati. Due sono troppo migliori degli altri, ma quelli che restano, nelle loro combinazioni, se trovi le carte buone, sono tutti giocabili. Senza star a guardare le rare, il bianco ha ottimo token generator, ha un sacco di carte fastidiosi, ha delle combo interne, mini, tipo Sterling K-Keeper, due mana tappa una creatura e ha il removal, dov'è? Ha il removal che distrugge tappato, quindi in realtà se te, questo comunque è una premium common, due mana due due con l'upside, quindi lo prendi volentieri, sai che Riat Lullaby, anche se è sorse di su creatura tappata, sai che non è così pessimo come sembra perché c'è la possibilità di setapparlo. La mucca, ragazzi, il bovo, il bovo è fuori di testa, il bovo è una delle migliori comuni del set, è sicuramente la miglior comune del bianco, cioè due mana due due flash volante, entra, fa scry, vai in due punti vita, ti fa un rocchettone, cioè l'holicao, poi hanno deciso di dare, dov'è? Dov'è il medico? Il medico della merda, il maledetto, eccolo, il medico della merda, hanno deciso di dare due mana uno tre lifelink che more e pesca una carta, così, perché non scrivere pesca una carta a caso su una comune, no? Due mana uno tre lifelink non era già un filler, era già praticamente gioabile, anche perché, perché questo set, quello c'ha uno di costituzione, fa un po' cacare, in questo set ci sono un sacco di mercenari uno uno del cazzo, quindi tre uno, due uno, uno uno, ricordatevi che vengono imparati i mercenari, uno tre lifelink blocca i mercenari per sempre, puoi avere i mercenari li usi per gonfiare la roba, però, comunque, due mana uno tre lifelink e pesca una carta è stupida, eh? Altra grande comune, nonché un altro dei migliori removal, sì, sicuramente il miglior removal del bianco, eh, non trovo mai un cazzo a colpo d'occhio, sono veramente scarse, eppure sono poche, eh? Mystical Tether, Mystical Tether, due mana incantesimo, e si è un artefatto una creatura, quindi Oblivion Ring, ma, in late, ti dà questo micro upside, che non avevano le altre di questo tipo, tipo Makeshift Binding, l'ultimo uscito, nel Makeshift Binding guadagnavi due punti vita, sti cazzi, questo secondo me è più forte, perché a parte due punti vita, ti permette in late, quando hai tanto mana, eh, di, di farlo flash, e non è per niente, per niente male, quindi il bianco, colore bello, 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 molto profondo, col card draw, che cazzo li vuoi dire, c'ha tutto, bianco, buon colore, e tu mi dici, ma questa cosa la dirai di tutti? Sì, perché tutti i colori sono buoni, eh, a parte il blu, lo dico subito, il blu mi sembra quello che ha un meno risorse, però ora vediamo, ovviamente parlo di comune e non comune, le rare, le rare, grazie al cazzo, il blu, il blu è un po' infame, però c'ha della roba assolutamente fortissima, tipo, un mana 1-1, volare, tappa in permanente, pesco e scarto, miglior comune, secondo me, del blu, insieme appunto, sono accanto, al geyser drake, geyser drake, tre mana, due, tre, volare, che cazzo vuoi fare, di più? questi due, sono ottime e comuni, il problema del blu, è il classico problema, come nel verde, il problema del blu, è che non risolve niente, ha un bellissimo trick, che è, e a trovarlo, come sempre, non trovo mai niente, a colpo d'occhio, eccolo, take the fall, un mana istantaneo, se hai un atlow, e cerca la veccelo, se no fa schifo, meno 4-0 in trick, è un trade, praticamente, quindi è un removal, usato bene, meno 4-0 a un mana, pesca una carta, la rende ottima, quindi questo è un ottimo trick, per il blu, anche perché più di tanto non ha, c'ha 4 mana flash tappa, però, il grosso lacking, of removal appunto, me lo fa mettere in fondo, nei colori, secondo me, nonostante, ripeto, è l'ultimo, di 5 colori buonissimi, a sto giro, è un limited, strabilanciato, potrebbe essere, la nuova dominaria, lo ricordate, il primo dom, che io dicevo, tutti, ecco sì, tutti i colori erano buoni, che era tutto bilanciato, era tutto giocabile, potrebbe essere, anche a sto giro, il ritorno del paradiso, di dominaria, vedremo, potrebbe, potrebbe, il nero, è anni luce, il miglior colore del set, invece, cioè, sono tutti forti, ma il nero, è troppo soprattutto, tutto, non c'è una carta brutta, in nero, non c'è una comune brutta, la peggiore, è l'ambus gigapede, che è comunque giocabile, perché in icoria, questa carta quasi identica, si giocava, c'è, quattro mana, esilia una creatura, instant, se costa tre o meno, serve il due, ma perché no, ma butta dentro, cioè, questa è un remue di Cristo, conviction è ottima, il nezzumi link breaker, è un'altra comune, è ottima, perché è un mana 1-1-1, che ti dà un token, rilevante, non è un token del cazzo, è un mercenario, un outlaw, skull diggeri, è un ottimo trick, perché è una forbice di due, unfortunate accident, l'ho già detto, è forse la miglior, non comune del set, è uno spree, totale, poi il treasure dredge, cioè, gli hanno dato il fixing, ragazzi, il nero, il nero ha fixing di colore, ok, il nero ha 2 mana 2-2, crea un tesoro, remana 3-1, pesca una carta, il nero è troppo, troppo più forte degli altri, secondo me, proprio, ma, ma, zero paragone, c'è solo un paragone, che è il secondo miglior colore, che è il rosso, ma non è a livello del nero, è il secondo miglior colore, quindi, bianco, blu e verde, sono più o meno tutti e tre allo stesso livello, comunque giocabili con le loro carte buone, hanno tutti i comuni fortissimi, tutte i comuni fortissimi, ma, ma comunque il rosso e il nero sono troppo superiori, il rosso e il nero sono fortissimi, anche al nero, anche al rosso le hanno dato tutto, tutto, dov'è questo? The Railman, ragazzi, The Railman è stupida, 3 mana instant, 4 danni, è fortissima, lo è sempre stata, si trovava anche quella lì, che poi gli potevi dare anche lo splash bianco, il kicker, che guadagna tre punti di vita, un migliore, però, si sa, si sa perciera, da Calde, ma anche Calde, c'era il bolt e faceva 4 danni, 4 danni spacca tutto in questo set, Madonna, Madonna è sonnara, dicevo, 4 danni, spacca tutto, spacca ogni cosa, proprio 2, nel dubbio, se ti avanza del mana, spacca c'è anche l'artefatto, 2 mana, 2-2, pesco scarto, va bene, perché no? dove è il bombato, eccolo lì, il volverino, 3 mana, 3-2, lo plotti, perché lo plotti, non ti importa una sega, non lo fai mai normale, a meno che non c'hai un milione di mana, lo plotti allo stesso costo, il turno dopo giochi lui, pesca in arte, la giochi subito, outlaw fury è un trick della madonna, fa un male bestia, e perché no, pesca in arte, Prickly Payr, è Inside Source rossa, è identica, cioè, 2 mana, 1-1-1 e 1-2-2, con la differenza che l'1-1 è rilevante, come lo era per Inside Source il Detective, esattamente la stessa carta, sì sì, il rosso è proprio forte, 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 anche soltanto un mana 1-2, first strike, rapidità, in late, non ti serve più, lo sacchi, pesca in arte, fai un to, fai un tesoro, cioè, ahhh, gli hanno dato tutto al rosso, Rakdos è invincibile, ve lo dico già, cioè Rakdos è palese, la migliore combinazione di colori, se sbaglio, no, non scommetto niente, il verde, è buono, è completo, sembra subottimale rispetto al rosso al nero, per forza, però è buono, le 2 mana 3-3, defender che può attaccare se c'è 4 o più, si attiva sempre, quindi questo è 2 mana 3-3 vanilla, praticamente, Dance of the Tumblebeats è un ottimo fixing, il Bevero è un 4 mana 4-4 vigilance, che se lo selli fa segnalini, il Pasha Naturalist è la miglior comune del verde, il Pasha Naturalist è la miglior comune del verde, 3 mana 2-3, che è 1.3, e ci metti, prendi la terra a mano, nella peggiore ipotesi non può whiffare, perché fa tesoro, è forte forte il Pasha Naturalist, dov'è il removal quello invincibile? Qui, eccolo, Throw from the Saddle, questa ho, 2 mana, Sorcery, più 1 più 1, se è una mount, segnalino più 1 più 1, e poi spara bite, non fight, spara i danni, questo è un removal della madonna, 2 mana Sorcery, eh, ma nelle non comuni non c'entrano nemmeno nell'identità del colore, che tanto sono tutte forti le non comuni a sto giro, sono veramente tutte forti le non comuni, Rise of the Warmins è fuori di testa, però solo per Golgari, quindi nell'ordine direi, colori migliori, nero e rosso, top, nero, miglior colore del set, nero e rosso in generale è top 2, dopo, bianco, blu e verde, con il verde, no, col blu che se la gioca per l'ultimo, però bianco, blu e verde sono buoni, sono buoni, meno degli altri due, ma sono buoni, sono tutti colori bilanciatissimi, andiamo a vedere l'identità colore figola, allora, Boros e Agro Mercenari, ok, Agro Mercenari, sinergia token, tipo, Ertaggio, Ertaggio mi fa stare, Ertaggio è una gran carta, ed è fondamentale secondo me per Boros, cioè non fondamentale, Boros non soffre dell'assenza dei non comuni di classe, diciamo, però sicuramente Ertaggio, io lo so che Ertaggio, sicuramente, ma Ertaggio, Ertaggio ti dà un Barca Mercenari fuori di testa, Dimire crimine, Dimire è basato tutto sul crimine, mid range of control, praticamente, grosse, grosse sinergie crimine, sia nel blu che nel nero, e intimidation campaign fa un valore della madonna, la Zav è ottimo, e ovviamente è stato, non c'entra niente, le rare non si guardano, ragazzi, le rare non ci sono, sono lì, sono forti, pigliatele tutte, i campaign e l'Azav settano, il Dimire crimine, e diventa un ottimo, ottimo archetipo control, Selesnia e i cavalli, Selesnia e Steelborn Run, quindi Tribale e Steelborn Run, Selesnia, dovete avere Mount, e carte che sinergizzano con le Mount, la non comune Miriam è stupida, cioè, 2 mana, 3-2, c'hai le Mount con Exproof, nel tuo turno, e ogni volta attaccano, ci mette in segno 1-1-1, cioè questo è il pacco 1-pic 1, sopra svariate rare, secondo me, fortissimo, poi ho bisogno di vedere quanto è forte, Selesnia in generale, meno di Rakdos, però, questa è una non comune, che dice, ok, mi conviene, se la prendo subito, fare Selesnia, prende tutte le Mount possibili, che diventano tipo invincibili, non lo so, però, comunque, sono, per me è un bel mazzo, anche Selesnia, gli effetti Sedol, sono forti, Izzet doppia spell, Izzet doppia spell, si basa appunto, nel sinergizzare, o con cose piccole, o con plot, quindi, un utilizzo di plot, per appunto, far sempre, cercare di far sempre doppia spell, nel turno, sono dei grossi payoff, perché, vi ricordo, la doppia spell, è di tutti e due turni, quindi, se noi riusciamo a fare, plot e cosa, più, doppia cosa, nel turno dell'avversario, tipo, Kraum triggera due volte, Malcom triggera, triggerano tutti, perché è doppia spell, per ogni turno, non durante il tuo turno, quindi, se riesci a organizzarti bene, il turno di plot, te puoi fare, plot o passo, turno dopo, spell plottata, droppa uno, turno dell'avversario, doppia spell, da due, quindi, secondo me, anche Izzet, è un buon archetipo, cioè, se lo devi strutturare bene, Izzet è molto dipendente, da, dall'avere consistentemente, doppia spell, cioè, proprio, ce lo devi avere, sempre, questa cazzo di doppia spell, devi fare una curva bassissima, Izzet forte, con la curva bassa, Golgari spinge un botto, Golgari spinge un botto, perché? Perché il nero è fuori di testa, il nero è fortissimo, il verde gli dà le creature solide, e, eh, le sinergie Golgari, sono cimitero, ma non cimitero, per rianimar le robe, sì, vabbè, cioè, però, è valore dal cimitero, cioè, Golgari tende a, trasformare un cimitero pieno, in valore late game, e questa cosa è in limite, ed è fortissima, quindi, secondo me, può essere, che dopo Rakdos, è un azzardo, non dico sì, è così, dopo Rakdos, una delle migliori potrebbe essere Golgari, perché se Agron ti ammazza subito, Golgari il late game lo vince sempre, perché c'ha un botto di recursion, c'ha un botto di recursion dal cimitero, pesco dal cimitero, c'è una comune, peraltro, perché è vero, le comuni devono essere rotte per forza, dov'è? C'è una comune del nero, due mana, ecco, Moner Surprise, due mana, riprendi in mano la natura del cimitero, crei un mercenario, cioè, vedete, se c'hai il cimitero abbastanza gonfio, hai fatto comunque la tua partita, in più che il late game, te ricominci, l'avversario è finito, te ricominci, Ricogli, ottimo, ottimo, poi, vabbè, c'è dei removal stupidi, Azorius potrebbe essere il peggiore, però, ha due non comuni che settano appunto il, il formato, cioè settano l'archetipo, due non comuni che settano l'archetipo del terapasso, vedete, Azorius è terapasso, basta, non devi fare altro, te devi o plottare, quindi non giocare niente, plottando, o giocare flash, queste due sono fortissime, sono forti, Wrangler è una mitica, ok, Wrangler of the damned, 5 mana, 1,4 flash, se non hai giocato spell, crea un 2,2 volante, questa è una cazzo di mostro atomico, però, ho paura che l'intero mazzo, che plotta o flasha, sarà difficile averlo solido, quindi ci sta che questo archetipo sia il peggiore, ma non voglio di nulla, perché ovviamente, queste due carte sono fortissime, quindi se c'ha le carte giuste, l'archetipo è invincibile, quindi anche lì si torna al fatto della qualità del deck, però mi sembra che sia l'archetipo più difficile da fare, ecco, diciamo così, non il peggiore, perché è più debole, il più complesso da avere, bello, Grull è il più facile, invece, Grull è il più facile da montare, perché te picchi loro due, cioè picchi il cactus folk, e Jolin, e butti tutto quello, e c'ha 4 più forze, dai f***a un cazzo, c'ha 4 di forze, è mio, dai, butta dentro, anche perché Grull c'ha un sacco di outlaws, anche nel verde, e c'è una carta rossa, non comune, se non sbaglio, che ci sta da Dio, in Grull, ho studiato, eh, se si vede ho studiato, ho studiato, bim, questo set l'ho studiato, è il spulbrut, 5 mana 5 4, ha finita con le outlaws, questo lo caghi a 1 o 2, in Grull, e ti fai, 5 mana 5 4, 2 mana 5 4 travolgere, magari peschi una carta, perché c'hai, lei è stupida, Jolin, c'è 3 mana 4 2, crea un tesoro, ogni volta che giochi una 4 più, e sacchi tesoro, spari alla roba, cioè quindi, lui, dà rapidità a tutto, quindi c'è, loro due sono fortissimi, se hai tutto ciò che costa, che c'ha 4 più di forza, Grull è un ottimo archetipo, carriato dal rosso, che è stupido, nero bianco, anche qui, carriato dal nero, che è il miglior colore del set, in più gli dà il bianco tanti pippolini, e l'identità di nero bianco, una volta che c'hai le ottime carte del nero, e tanti pippolini del bianco, peraltro anche il nero, c'ha generazione pippoli, e questa cosa è assurda, il nero fa tutto, crea token, pesca carte, rimuva l'efficiente, fixa i colori, vabbè, prendete il nero, sarà il colore più litigato al tavolo, ma comunque, una volta che il nero ti ha dato le carte solide, il bianco ti ha dato un sacco di pippoli, bianco nero è sacrifice, sacrifice con grandi, grandi upside, perché sia Baron che Ruthless Lobringer, sono fortissimi, lui per gli amici è Devil Jin, ovviamente, che è palesemente Devil Jin, e... è 3 mana 3-2, spaccano permanente, liscio, ti sacrifichi un cazzo di mercenario, o un vampiro 1-1 creato da qualcos'altro, sacrifichi un cazzo che ti pare, non dice non token, non dice non token, può non dire non token questa carta, no, quindi, secondo me, se la gioca con Golgari come secondo miglior archetipo, quindi Rakdos, migliore in assoluto, poi secondo posto, Golgari e Orzov se la giocano, per me è pari merito forse più il secondo posto, Golgari c'ha fatto il prova più lungo e late, quindi vedremo, poi c'è Grul, poi ci sono più o meno Izzet, Selesnya, Dimir, più o meno tutti allo stesso livello, e poi, c'è, Azorius che è difficile, difficile, da montare, non più debole, difficile da avere buono, e poi c'è UG che non fa niente, nel senso, allora, non è che non fa niente, allora, il verde e il blu, non hanno removal, e lo sappiamo, sono i colori, che meno interagiscono con le carte d'avversario, tecnicamente l'identità di Simic, sarebbe, plot più valore, cioè, Simic tende a plottare, e a, a capitalizzare sul valore del plot, per fare i power turni, però se non c'hai Doc Harlock fa schifo, quindi Simic, te lo fai, secondo me è il peggiore proprio oggettivo, dai, Simic è il peggiore, Simic è il peggiore, e spera di sculare Oko, ecco sì, Oko pack 1, ottimo, secondo me Oko è molto più forte, splashato in Golgari, ecco, anche perché il fixing ragazzi, fixing è una stronzata eh, in questo set, fixing ci sono tutti, tutti, ho finito vero? No, ah aspetta, che cazzo dico ho finito, c'è il color più forte, c'è il color pair più forte in assoluto, color pair più forte in assoluto, Rakdos, 2 mana, 3 2, e i colori vanno da tutte le parti, è inutile che l'analizzi, 2 mana, 3 2, e ti faccio i crimini, ti faccio i crimini a stecca, ogni volta che fai un attolo, io faccio crimine, boh, vabbè è stupido, Rakdos è, secondo me è proprio tanto più forte di tutto il resto, ma semplicemente per le comuni, cioè il rosso e il nero hanno troppe comuni forti, e il mazzo Rakdos non ha mai filler, lì in colore ci sono solo due carte, che ora non ho sotto mano, datemi un secondo, eccoci, nel comparto in colore, secondo me le uniche carte degne veramente di nota, sono Silver Deputy, Osis Gardener, che sono ottimi filler ovunque, se vuoi più il Gardener che il Deputy, perché comunque 2 mana 1 2 fa un po' schifo e non te la pesca, te la mette in cima, la terra base ma ti fixi a coi deserti, e comunque ha il buff del mercenario, quindi si può considerare overall 2 mana 2 2, però comunque se proprio sei disperato di fixing, lo prendi, il Gardener è un ottimo fixing, ottimo, 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 perché 3 mana 2 2 va ovunque, fixa tutto e guadagna 2 punti vita, gli stivali sono buoni ragazzi, sì, stavo dicendo le comuni, scusate, dicevo, i comuni in colore, loro due ti servono per fixare, il fixing è facilissimo, perché ci sono tutti i deserti comuni, in generale, quindi questo sarà un set che facilmente gioca a 3 colori, ma proprio easy, easy, è proprio 3 colori così, lo fai, 2 più splash minimo, se non splashi nulla, non c'è quasi motivo di non splashare, 3 colori lo fai agile, e c'è Mirage Mesa che è assurda, cioè ottima, è un crossroads, ok, è il colore che mi serve, fine, quindi questa prendetela sempre nel dubbio, c'è una busta subottimale, state giochendo 2 color, avete il mazzo di bicolor, non avete intenzione speciale, ma c'è una busta subottimale, prendete la terra, prendete la terra, prendete i deserti, e l'horspool boots ovviamente è una comune forte ragazzi, cioè rapidità è world 1, a 1 butti su tutto, certo, però ovviamente mi stavo riferendo alle comuni, tipo questa, gold pan, secondo me non vale la caratteristica, candela non è un buon fixing, fixa una volta, e coindut è un bait, anche questo, il surveil 1 può essere interessante, ma non ci vuoi splashare, perché i filtri a 1 sono pericolosi, mi sembra un mazzo, mi sembra un set che scurva parecchio, questo mi sa un po' di bait, cioè è meglio un deserto di pylons, meglio qualsiasi deserto di pylons per splashare, specialmente appunto, vi ho detto, piccate più un mese possibile, anche solo per togliere agli altri, così non hanno, il cane è un bait, anche lui, 3 mana 3 2, surveil 2, non vale, non è che dice, vabbè sta ovunque, lo picco, no fa cacare, 3 mana 3 2, surveil 2, serve veramente a poco, forse, 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 può essere un buon filler, comunque un filler, però un buon filler in Golgari, perché fa surveil, quindi, quindi, fixate tutto il fixabile, mercenate il mercenabile, e soprattutto, se non avete esattamente quest'orso, non fate simic, e divertitevi, ai pre-release, ai vostri draft, al tavolo con gli amici, su arena, quando esce arena, e mi raccomando, io vi ricordo, che, non so quando uscirà questo video, penso semplicemente domani, quindi oggi dovrebbe essere il 10, venerdì 12, io sarò live, sul mio canale, alle 9, con il pre-release cartaceo, e, chi invece è in zona, o si vuol fare la trasferta, sarò alle 9, appunto, al labirinto, a bollate, proprio fisicamente, a streammare, in negozio, il pre-release, siateci, abbondanti, sia al labirinto, sia in live, venerdì sera, spero che questi consigli, vi saranno utili, andate tanto a vincere, se non vincete, almeno divertitevi, se non vi divertite, andate a fanculo.